Ah no, però ci sta qualcosa qui che è Questo chi è? Eccolo qua Parla con mercante Haydn Negozio Ah negozio Pugnetta, basta I martelli Pugnali del Salas, Chakra, ma anche Spadone al guerriero, no Spadone spietato, si A stai animerei se non mi servono a nulla ormai Cosa è questa essenza del fato? Questo ce lo possiamo vendere, i maghi famosi no L'avventura no 17.000, però Chakra mastuti Questa cos'è? Oggetti venduti Ah no Spero di vedere un attimo questa roba Aspetta, aspetta, dove, 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 dove Eccolo qua Seduzione lì Eh ma Ispezione, ecco qua Rende più semplice la gioia di zero con i membri del stesso posto e persuaderli Oddio ma ci si può anche sposare in un gioco così? No perché se no è figo Allora vediamo un attimo cosa c'è Allora vediamo un attimo una cosa Se mi metto questo Ah 8 destrezza vuole Poi ci sta questo Fiammeggiando Aspetta quello cos'era Corazza rigida Ragazzi mi sa che ora ce ne andiamo girando così 183 183 su 154 Però questo ci dà Guardate Allora Più 10 armatura Saluto al secondo Regenazione al secondo 10 resistenza elementare Teniamoci questa un altro po' Poi sveglieremo il da fare Aspetta Shut up Allora vediamo Giustamente tu non vendi pozioni Perché li hanno messi sotto i casi diversi Perché li hanno messi sotto i casi diversi? Affanculo If you want to make it Always looking to make a bit of coin Fanculo 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 Ok Si continua nel meraviglioso mondo di Amaler Amaler Che cazzo Che cazzo Oh mio dio Sprite campione del ghiaccio Quindi presumo Presumo No presumo che Presumo Che Che cazzo no raga 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 sto morendo sto morendo sto morendo si ma se me ne lasciate andare ma che so si sprite de merda qua troppo cazzuti per essere troppo cazzuti dio ok sono rimasti solo questi vulnerabile vulnerabile ok fanculo già mancato pochissimo eh guardate quello sprite se non se ne va fanculo mio dio ci è mancato poco eh ma va fanculo qui le cose si fanno pesanti ora compare qualcun altro ne sono sicurissima eccolo qua ma buon boggart di merda che cazzo vuoi che mi faccia eh che ti pareva che non compariva pure questi sprite campione delle tempeste sei spiritoso eh sei spiritosissimo ed è wis nulla da dichiarare non è successo niente entra nei giardini di isa entriamo nei giardini di isa ah ma pensavo che c'era tipo qualcosa che ah vedi però è affatto bellino eh tipo dietro un una cascatina no 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 non è una cascatina se vuoi fare degli veri affari ricordati di investire in abilità commercio cos'è qua oddio questa cutscene oddio oddio bellissimo sto gioco è stupendo è di un bel 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 ciume proprio ah e questa è la cutscene va bene ah pensavo che dovevo saltare no perché se dovevo saltare era proprio ridicolo parla con guardia non me ne fotte delle guardie tu chissà già ti ho visto tu no cancelliere madonna quanto è brutto perché questi hanno la voce tipo che ci sono grazie ok cos'è qua un baco della grafica allora nuova missione l'imminente tempesta abbiamo finito il gioco No, non è vero. Sto vedendo un po' la mappa sopra. Com'è? Com'è? La fonte. Siamo sproporzionati rispetto alle scale, comunque. Secondo me se lancio qualche... chi è questo? Amico mio! Amicone! Amico mio è bello. Questo cos'è? Colloca il codex sul piedistallo. Devo chiudere un attimo la finestra? Aspetta, non mi devo perdere neanche una scena perché... Ok, non mi sono perso niente. Guarda come ondeggia con quel culo. Questo re... non mi piace proprio. Guarda com'è pompato. Sì, ma non ti atteggiare il ricchione, eh. Nulla togliendo il ricchione. che non spia a evaporare il ricchione, eh. ... Grazie a tutti.